Sì, sono presa! Stavo già avendo un'ansia che non ci fossi Ci ho pensato, eh! Sei arrabbiata? No, perché dovrei essere arrabbiata? Per l'esterno, diciamo Inizialmente l'ho presa proprio male Poi, quando sono arrivata in hotel Che mi sono calmata Ho detto ok Lui ha detto che sceglie Quindi voleva vederci entrambe nel suo mondo Se ti dovesse scegliere cosa ti resti? Sì Sono emozionata, non è... È strano Che cosa? Io e te, ma non è la mano in giro per una città È strano Sta diventando sempre tutto più reale Se poi non diventa reale Mi prende... Lo ci piste da domani però Sì